Intervento primario dell'elisoccorso Pegaso 2 del 118 nei pressi del laghetto di Terra Nera, nel territorio del comune di Porto Azzurro. Un gruppo di ciclisti mountain bike stava percorrendo un sentiero panoramico quando il biker che era in testa al gruppo, un 54enne trentino, ha perso il controllo sfondando la staccionata del sentiero e volando letteralmente sulla scogliera, circa 10 metri più in basso. I soccorsi non sono stati semplici. Sul posto la Polizia Municipale di Porto Azzurro, seguita dai volontari della locale pubblica assistenza, ai quali si sono aggiunti anche uomini della misericordia. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, in quanto l'uomo, salvato dallo zaino, da traumi dorsali e dal casco per quelli alla testa, aveva riportato la frattura di entrambe le caviglie. Stabilizzato dal personale medico e paramedico intervenuto, l'uomo, fortunatamente sempre cosciente, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Pisa Cisanello.